Matteo Ricci sette anni da sindaco e ancora tanti progetti in cantiere eroi e vittime del covid ora c'è anche un murale che li ricorda mostra del nuovo cinema parte la 57esima edizione 4 a 1 su eboli per l'ital service questa sera gara 2 di semifinale una buona serata a tutti voi telespettatori di Rossini TV che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questo è Rossini News questo è il nostro telegiornale della sera con tutte le principali notizie della provincia di Pesaro Urbino e della regione Marche telegiornale di venerdì 18 giugno che apriamo con la situazione sanitaria e gli annessi allentamenti di restrizioni che stanno caratterizzando questo periodo e caratterizzeranno soprattutto la prossima settimana perché dal lunedì 21 giugno ci sarà il primo giorno in cui le Marche passeranno da zona gialla a zona bianca come previsto dal requisito minimo della terza settimana trascorsa consecutivamente sotto i 50 casi di contagio ogni 100.000 abitanti anche per quel che riguarda questa giornata di venerdì continua ad essere ridotto al minimo il tasso di contagio nella regione Marche col 2,5% di tamponi positivi nello specifico oggi sono stati 28 i casi di contagio registrati su 1110 nuove diagnosi soltanto 4 nella provincia di Pesaro Urbino scendono ancora i ricoverati nella regione Marche ne restano 44 di cui 8 in terapia intensiva oggi nelle Marche si è registrato un solo decesso di persone contagiate da Covid-19 emergenza Covid-19 ma anche riqualificazione urbana mobilità sostenibile, interramento della statale, casellino e nuova stazione questi ed altri i temi affrontati ieri sera sul palco di Piazza del Popolo dal primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci in occasione dei suoi sette anni da sindaco della ricorrenza dei sette anni da sindaco un'occasione per stilare un bilancio guardando anche al futuro della città ascoltiamo proprio Ricci nell'intervista realizzata da Andrea Sabatini è stato fatto tanto e i piazzarisi ce l'hanno riconosciuto due anni fa dandoci ancora fiducia con un largo consenso però adesso dopo questo anno drammatico siamo in una fase straordinaria nella quale davvero possiamo far volare ulteriormente Pesaro ci sono tante risorse, tante risorse che arrivano dall'Europa tante risorse che arriveranno dal governo nazionale noi ci stiamo attrestando per coglierle e tante già ne abbiamo prese perché già risorse per la stazione che sono state definite per la nuova stazione bandi che abbiamo già preparato dal San Benedetto ad altri contenitori culturali del centro delle frazioni, delle colline e quindi siamo davvero in una fase straordinaria nella quale abbiamo bisogno di progettare di darci da fare per portare più opportunità possibili a Pesaro l'economia fra l'altro sta andando discretamente perché il mobile sta andando bene la meccanica sta andando bene l'edilizia ha ricominciato grazie agli incentivi a rimettersi in moto e quindi abbiamo bisogno di sostenere questa ripresa economica con una bella stagione turistica e con tanti investimenti pubblici c'è la preoccupazione della velocità perché la mia preoccupazione è quella di non riuscire a far mettere a terra le tante risorse che abbiamo già portato e che potrebbero arrivare troppa burocrazia abbiamo bisogno di semplificare e velocizzare perché altrimenti il paese rischia di perdere una grande opportunità questo mi pare il problema più grande che avremo nei prossimi mesi per far decollare la nostra città e per contribuire a una ripresa del nostro paese dopo quest'anno terribile per l'emergenza Covid abbiamo già finanziato molti ciclabili anche quest'anno la ciclabile che arriverà a Vismara la regione ha finanziato la ciclabile sul Foglia che arriverà a Montelabate abbiamo finanziato quella su Via Fratti quella che andrà a Villa Fastigi verso il lago Penserini nel Lungofoglia e poi tante altre che finanzieremo nei prossimi anni sono circa 8 milioni le ciclabili che dovremmo per 8 milioni dovremmo finanziare le ciclabili nei prossimi anni però sono convinto che grazie alle opportunità che avremo riusciremo a completare la rete delle ciclabili che abbiamo in mente fino a Villa Cecolini che è il tratto diciamo più costoso che ancora dobbiamo finanziare io adesso intanto mi vedo pancia a terra su Pesaro perché come dicevo poco fa ho la smania di fare più cose possibili e di portare a Pesaro più opportunità possibili sapendo che magari molte opere non le vedrò le vedranno altri ma credo che sia il mio dovere in questo momento storico dare più opportunità possibili di rinascita a Pesaro alla nostra bella provincia poi vedremo se i pesaresi apprezzeranno questo sicuramente sarà un aiuto in più una spinta in più per magari vedere se l'esperienza da amministratore locale può diventare un contributo maggiore anche per il mio paese però lo vedremo io la politica nazionale la sto già facendo da anni come sindaco e quindi penso che continuerò a impegnarmi in questa direzione sperando di fare bene di fare bene per la propria comunità e di avere il consenso necessario per continuare ad operare per la nostra bella terra per la nostra bella provincia e appena un paio d'ore prima dell'evento di Piazza del Popolo lo stesso Ricci aveva tolto personalmente i veli all'opera pittorica in memoria degli eroi e delle vittime del Covid-19 si tratta di una serie di murales realizzati dall'artista Cubo liquido di fronte all'ospedale San Salvatore di Pesaro luogo simbolo dell'emergenza sanitaria l'infermiero Livia la cassiera Rosa Maria il musicista Enrico la poetessa Maria Teresa tanti personaggi tante storie tante le vittime del Covid tanti gli eroi che si intersicano in queste sette facciate queste sette finestre sulla caserma di Pesaro di fronte all'ospedale di Pesaro il teatro principale triste, drammatico di questa pandemia che resterà per sempre indelebile ora diventa indelebile anche nel senso più tangibile delle termine con l'opera di Cubo liquido alias Antonio Cammarano artista che il comune di Pesaro ha contattato per realizzare questa opera in memoria delle vittime e degli eroi del Covid che oggi qui in Via della Liberazione è stata svelata e consegnata alla città di Pesaro è stato molto difficile io di solito sono un artista di strada dipingo per divertirmi e divertire e in questa occasione è stato totalmente il contrario sulle prime ho fatto fatica a dire di sì poi ho detto ok mi prendo questa responsabilità perché come dire ho vissuto anch'io in prima persona come tutti noi parte di questo drammatico ricordo che tuttora stiamo vivendo e dare memoria penso sia importante mi sono sfidato in qualcosa che con i tempi a disposizione è andato oltre quello che di solito faccio quindi ho inserito tantissime figure ho fatto fatica a non mettere alcune figure molto importanti che mancano in cui all'interno praticamente la cosa più difficile è stata proprio cercare di mettere tutti le associazioni di volontariato tutte le persone che hanno operato in silenzio quelli che avevano il diritto di come dire urlare e non l'hanno fatto sono in tanti i bambini tanti bambini ce n'è solo uno ma sarebbero stati molto di più che hanno comunque sofferto in silenzio ho provato a mettere come dire i commercianti gli operatori dello spettacolo i braccianti senza di loro non ci sarebbe stata la fornitura nei nostri supermercati è stata effettivamente una bella sorpresa da parte dell'amministrazione comunale di Pesaro del sindaco Ricci che ringrazio infinitamente di questa cosa perché quando ha visto che aveva così voluto rappresentare quel momento della piena emergenza l'anno scorso a marzo e ha captato il fatto che io un po' definita infermiera poetessa avevo questa possibilità di dare anche questo sentimento insomma oltre come dico sempre alla cura del corpo anche la cura dell'anima e questo per me è stato significativo perché io e attraverso me mi faccio portavoce insomma di tutti 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 i sanitari che hanno poi lavorato egregiamente e instancabilmente per curare ognuno di noi ecco tutto qua è un'opera che ricorda le tante vittime il dolore tremendo di questi 15 mesi in particolar modo della prima fase del covid che ha visto Pesaro purtroppo tra le città più colpite d'Italia ed è anche un segno di riconoscimento di riconoscenza nei confronti di coloro che ci hanno protetto i medici gli infermieri la croce rossa la protezione civile le forze dell'ordine tutti coloro che si sono adoperati in questo anno così difficile è molto bella la collocazione proprio di fronte all'ospedale è molto bella anche la collaborazione con il ministero della difesa e quindi siamo molto contenti e ringraziamo Antonio l'artista che ha fatto un lavoro davvero in pochissimi giorni però crediamo che possa essere apprestato da tanti pesaresi che a migliaia passano ogni giorno davanti a questo luogo continuano a moltiplicarsi gli eventi e le rassegne culturali sul territorio in questi giorni territorio che riparte dopo il lungo blocco dell'emergenza sanitaria ieri abbiamo ad esempio illustrato la partenza di passaggi festival a Fano al via proprio in questa giornata domani a Pesaro parte invece la 57esima mostra internazionale del nuovo cinema ascoltiamo i principali organizzatori del Pesaro Film Festival intervistati a margine della presentazione che c'è stata oggi questa mattina al cinema Astra sarà un'edizione piena di novità per un festival che ha appunto 56 anni e 57 edizioni sembra strano però abbiamo lavorato molto su appunto alcune novità ci sarà un concorso internazionale aperto a tutti i film a tutti i formati molto sperimentale ci sarà un evento speciale dedicato a Liliana Cavani l'unica regista finora omaggiata dalla mostra del cinema in tutti questi anni e ci sarà il cinema d'animazione curato da Per Paolo Freda ci saranno delle sezioni come dire in qualche modo storiche che portiamo avanti ma ci saranno anche molte novità pensate proprio per la città iniziamo il sabato iniziale il 19 con i 40 anni dei predatori dell'arca perduta quindi Indiana Jones presentato da Gabriele Manetti regista di lo chiamiamo Gig Robo e subito dopo domenica ecco la musica che entra nel festival con Naip una delle sorprese di X Factor della recente edizione che sonorizza dal vivo dei film dell'avanguardia degli anni 20 quindi ecco le novità musica ci sarà una sezione interamente dedicata ai videoclip 20 videoclip italiani che verranno poi votati dal pubblico tra le altre novità per la prima volta il festival si avvicina ai più giovani cerchiamo nuovi pubblici lo cerchiamo tra i bambini delle scuole primarie con una sezione direi quasi un festival nel festival che si chiama Pesaro Film Festival Circus con proiezioni in anteprima di film di animazione workshop tutto dedicato ai bambini che si muoveranno anche con la bicicletta che è diventato il mezzo ufficiale di locomozione del festival perché sarà anche un festival totalmente green dopo l'edizione di resistenza ma in realtà incredibile tenuta l'anno scorso fuori periodo torna nel periodo abituale di metà giugno quindi anche con il compito di avviare la stagione culturale della città anche la stagione turistica è un bel ritorno anche il fatto di essere qui oggi al Cinema Astral non solo come luogo di presentazione ma come un cinema che riapre riapre all'insegna del festival quindi anche un luogo storico della manifestazione di cui ci riappropriamo tra virgolette grazie alla disponibilità di Urbinelli che è sempre vicino al cinema e alla manifestazione devo dire ci regala grande soddisfazione la soddisfazione del pubblico è banale dirlo ma è veramente così in questi anni devo dire che c'è stato un coinvolgimento che ha permesso di allargare la nostra platea che storicamente era fatta di persone che avevano un interesse speciale verso il cinema ma ultimamente si è allargato anche a persone meno specialiste grazie a un'offerta più accessibile se vogliamo il cinema in piazza il cinema in spiaggia di questi ultimi anni e anche la novità di quest'anno il Pesaro Film Festival Circus per crescere gli spettatori del futuro la musica che non manca da tanto tempo nel festival il muro del suono ha fatto un po' la storia recente del festival anche in termini di atmosfera diciamo da festival non è possibile non è stato possibile l'anno scorso dopo quest'anno svolgerla anche se l'anno scorso ricordiamo tutti il concerto Lucichini dappertutto in ricordo di Mirko Zagor Camillas che avrebbe dovuto dirigere la stessa sezione del muro del suono e quest'anno con Vittorio Ruben on the day che vediamo a facciarsi nel frattempo saluto appena arrivato e un progetto musicale con Naip per mantenere appunto diciamo un livello importante di dialogo tra la musica e il cinema in attesa di poter tornare per l'anno prossimo magari a una sezione musicale più strutturata che possa continuare a essere un segno di riconoscimento di una mostra del cinema con questa storia in peso all'estero creativo della musica e questo pomeriggio nel mare di Baia Flaminia per la prima volta ha pedalato una bici acquatica si tratta di una prima volta non solo per Pesaro ma anche per l'Italia stessa è arrivato infatti in Baia Flaminia il progetto Aquaride con la e-bike realizzata dall'azienda neozelandese Manta 5 azienda oggi a Pesaro assieme alla presenza prestigiosa del console della Nuova Zelanda in Italia vediamo tutto nel servizio realizzato da Antonio Astuti si chiama Manta 5 è la prima e-bike acquatica al mondo è stata prodotta in Nuova Zelanda dall'azienda Manta 5 ed è sbarcata in Italia oggi a Pesaro il distributore esclusivo Aquaride parte proprio dalla nostra città per fondare una nuova disciplina sportiva è una bici facilmente manovrabile in acqua in termini di performance e la resa del idrofil e-bike è paragonabile pensata a quella di una bicicletta da strada di una mountain bike l'Italia è la location ideale per sviluppare questo nuovo modo di fare sport in acqua e Pesaro giocherà un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'idrofil e-bike funzioni con la batteria elettrica come una bici normale come una bici normale però con meno pericolo di una bici normale perché se si cade si cade in acqua esatto non vai a fondo è evidente collo sulla parte sinistra e resta e posso ricominciare così che velocità raggiunge la bicicletta? il massimo 22 km per ora ma per essere in vola tipo foiling almeno 10-15 siamo apostolati dal mondo ma in realtà abbiamo tantissime cose in comune soprattutto la nostra affinità con il mare e lo sport l'innovazione ci sono tante cose in comune che abbiamo l'Italia e la Nuova Zelanda ora più che mai bisogna avere qualcosa che ti dà un po' di speranza un po' di divertimento e credo che proprio per questa ragione che potrebbe anche avere molto successo in Italia l'e-bike intanto è una presenza che penso da sola testimoni l'importanza e la strategicità di questo progetto che viene presentato nella sua attuazione per la prima volta in Italia dopo ovviamente il passaggio al Festival di Genova in questo caso però si presenta il progetto vero e proprio quindi non solo la possibilità di utilizzare le bike ma il luogo dove siamo che è la sede storica del Parco San Bartolo che come sede amministrativa nei primi di luglio si trasferirà a Firenzola ma rimarrà comunque un centro di partenza di progetti ambientali di progetti legati agli sport aquatici si diventa anche la sede dell'Academy di questo progetto veramente importante che ha bisogno anche di tanta formazione perché è uno sport è un modo per vivere il mare è un modo nel nostro caso qui da Beflaminia per visitare la Falesi in una maniera assolutamente inedita ma anche è un'attività per cui occorre essere formati quindi qui dentro si insegnerà ad andare e si insegnerà ad insegnare ad andare noi siamo partner di Aquaride nel senso buono del termine che attraverso una nostra consociata che è la Convention Bureau ci occupiamo sia della promozione e soprattutto ci occuperemo in futuro di quello che può essere lo sviluppo degli eventi legati all'Aquaride legati a questo tipo di bicicletta possono essere eventi sportivi e eventi di promozione turistica e via dicendo quindi da qualche mese già affianchiamo gli esperti di Aquaride la proprietà insomma della società che sta lanciando questo tipo di veicolo di mare sul territorio italiano proprio per promuoverlo e per poi fargli avere anche uno sviluppo attraverso la disciplina sportiva è stato siglato oggi dal sindaco di Urbino Maurizio Gambini e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Enrico Blandini un protocollo d'intesa finalizzato alla prevenzione al contrasto all'evasione e dell'illecito conseguimento di benefici e agevolazioni erogate dall'amministrazione comunale l'obiettivo è quello di rafforzare sistemi di prevenzione e contrasto all'evasione tributaria completato il murale del parco Miralfiore che colorerà ulteriormente l'area del polmone verde cittadino il murale è stato realizzato da Maria Bartolucci e prende il posto dell'ex Fontana attraverso un'opera pensata e progettata in collaborazione con l'anima verde del parco cioè la guida naturalistica Andrea Fazzi la riqualificazione dello spazio è frutto di un lavoro a quattro mani svolto dalla Bartolucci insieme alla cooperativa T41 che si è occupata dell'ideazione e realizzazione del giardino in miniatura racchiuso dalle muro che cingeva la Fontana ed è cominciata oggi e continuerà fino al 25 giugno l'apertura alle visite del teatro della Fortuna di Fano dalle 17.30 alle 19.30 e per quanto riguarda domenica 20 giugno anche al mattino dalle 10.30 alle 12.30 occasioni in cui sarà possibile ammirare il prezioso sipario storico di Francesco Grandi e visitare i mosaici romani custoditi sotto la platea della sala polettiana il biglietto d'ingresso è del costo di 3 euro lavori in corso all'istituto agrario Cecchi di Pesaro dove si stanno realizzando l'aula multimediale 4.0 e un nuovo laboratorio di informatica un intervento nell'ottica di una scuola sempre più inclusiva finanziato da un importante investimento delle Rotary vediamo ringrazio il Rotary per quello che ha fatto per questa scuola avere un'aula 4.0 di informatica e un laboratorio adeguato alle nuove tecnologie innovative ci dà quella spinta in più a migliorare la didattica a migliorare le metodologie di apprendimento a far sì che la scuola diventi sempre più inclusiva quindi l'inclusione diciamo in un contesto educativo in un contesto formativo e didattico deve essere la spinta promotrice per far sì che ogni diversità venga valorizzata per il suo essere per la sua soggettualità il nostro club da anni ha scelto un piano strategico pluriannale con un titolo investire nel futuro e dopo aver erogato alcune borse di studio a dei giovani per l'acquisto di strumenti tecnologici abbiamo cominciato un percorso più ambizioso e anche più impegnativo grazie alla collaborazione di alcuni soci nostri in particolare dell'architetto Tamino e tutto abbiamo realizzato una prima aula digitale presso il liceo scientifico Marconi unclimata a questa aula ovviamente gli altri istituti si sono preoccupati di richiederci l'assegnazione di un'altra aula o la donazione di un'altra aula per la loro didattica digitale abbiamo fatto una scelta tra i vari istituti e la scelta è caduta nell'istituto cechi l'agrario cechi perché? perché il progetto aveva una particolare configurazione è la denominazione tecnologia e disabilità cioè si voleva con la creazione di un'aula digitale poter donare all'istituto non solo uno strumento di avanguardia tecnologico ma anche la possibilità di utilizzo di questo strumento per favorire l'inclusione degli studenti quelli best cioè con bisogni educativi speciali per reperire il finanziamento che era piuttosto pesante circa 70-80 mila euro abbiamo percorso i canali che la nostra Rotary Foundation assegna o consente ai vari club per ottenere dei finanziamenti per effettuare perché il nostro club ovviamente non era in grado di sopportare una tale spesa siamo riusciti compilando una domanda molto impegnativa comunque siamo riusciti a reperire nel mondo rotariano i finanziamenti necessari in India in Taiwan poi in America in Brasile quindi abbiamo siamo riusciti a completare l'importo necessario per il finanziamento e la nostra domanda è stata accolta e eravamo pronti per partire quando è scoppiato il Covid quindi abbiamo dovuto rinviare la realizzazione dell'Aula l'abbiamo praticamente rinviata di un anno e in quest'anno con la nostra dirigente scolastica la professoressa Giuliani diciamo che abbiamo anche visto la possibilità o approfondito la possibilità di realizzare una seconda aula cioè un laboratorio di informatica anche questo di trasformare in laboratorio informatica digitale Rotary 4.0 diciamo a metà luglio dovremmo essere già molto avanti quasi verso la fine dei lavori che abbiamo già riorganizzato da un anno quindi è tutto pronto dobbiamo soltanto assemblare e naturalmente risolvere problemini che ci sono sempre di un cantiere che sono cose inaspettate sorprese che ci sono sempre il progetto è un progetto di innovazione quindi la parte principale sarà tutto il contenuto tecnico e scientifico di queste apparecchiature che Rotary dona alla scuola però c'è anche un altro tema che è quello di dare una qualità all'ambiente formativo dei ragazzi noi vorremmo che invece queste nuove aule che faremo avessero aspetto non so se di un internet point o qualche cosa dove i ragazzi vanno più volentieri lì che a casa loro deve essere un piacere venire in questa aula e lavorare insieme agli altri e insieme a tutti quelli che sono connessi in rete perché appunto questa sarà la caratteristica di questo intervento non è solo per questa scuola ma è un punto di una rete allargata e per chi fra voi telespettatori ci sta seguendo nella nostra prima edizione delle 19 e 40 ricordiamo che questa sera al Paladino Pizza di Pesaro va in scena alle 20 e 30 gara 2 della semifinale Scudetto di Calcio 5 fra Ital Service Pesaro e Feldi Eboli ieri sera gara 1 ha pregnato i pesaresi col punteggio di 4 a 1 vediamo il servizio con l'intervista ai protagonisti realizzate da Antonio Astuti dopo un mese a braccia concerte l'Ital Service torna in campo aggredendo le Final Four Scudetto al Paladino Pizza Pesaro batte Feldi Eboli 4 a 1 partendo così da un più 3 di vantaggio per gara 2 di semifinale che richiamerà le due contendenti in campo alle 20 e 30 di venerdì ovvero a 24 ore esatte di distanza da una gara 1 nata sul botta e risposta che ha visto l'Ital Service andare in vantaggio con Canal dopo una manciata di secondi per poi essere ripresa da Grello un minuto dopo l'Ital Service poi esce alla distanza prendendo il largo sul 3 a 1 con Salas e Olivera prima del 4 a 1 definitivo siglato da Borruto dopo 6 minuti di ripresa innanzitutto sono contento per com'è andata la partita sapevamo che era una partita molto importante per noi difficile cercare di cominciare questa Final Four un po' strana della migliore dei modi e penso che siamo riusciti domani sarà un'altra battaglia sappiamo che giocare in casa davanti a questa gente per noi un plus che mancava quasi un anno io in particolare dopo giocare delle finali qua aver perso quindi penso che adesso ho voglia di godermi tutto questo momento che è veramente bello sappiamo che quello che abbiamo fatto oggi se domani va male non conta niente quindi dobbiamo essere ancora più concentrati sappiamo che è una grande squadra però stiamo fiduciosi che lavorando facendo le cose come abbiamo fatto oggi andranno le cose bene noi dobbiamo essere pronti per tutto domani sarà una guerra e noi dobbiamo essere pronti per questo con il pubblico la gara diventa molto più bella per chi gioca e per chi sta fuori è un grande spettacolo io quando ho fatto il gol ho sentito il pubblico e mi fa piacere che il pubblico è venuto a vedere la squadra già il pubblico da normativa anti-covid vigenti sono state ammesse 500 persone al palanino pizza che si è regalato una prima serata di doppia gratificazione essere designato come teatro dell'atto finale del 37esimo scudetto del calcio 5 e ospitare il primo evento sportivo pesarese con gli spettatori rientrati sugli spalti l'emozione più grossa deriva dal fatto che abbiamo è la prima manifestazione a Pesaro con il pubblico in presenza quindi questo è un motivo di grosso orgoglio per noi siamo molto contenti l'emozione è forte perché finalmente dopo un anno di pandemia rivediamo i bambini sugli spalti il settore giovanile sugli spalti le famiglie che guardano possono vedere questa partita quindi c'è veramente una forte emozione una forte enfasi quindi una contentezza immensa dal fascino dal fascino del pubblico all'ambizione dello scudetto è lì che vuole arrivare di tal service con coach Colini concentratissimo già sulle difficoltà di gara 2 io mi aspetto 40 minuti col portiere di movimento da parte loro perché cercano di spegnerci con quel sistema lì perché poi la squadra nonostante non so quanto tempo 35 giorni ferma dopo il quarto di finale ha imposto un ritmo altissimo la nostra quindi sono soddisfatto peccato che abbiamo costruito sicuramente molto di più e dovevamo finire concludendo con qualche altra rete perché noi abbiamo rischiato 2-3 volte abbiamo preso un gol nel finale soprattutto nel finale del primo tempo dovevamo essere più cattivi e chiuderla invece così c'è il secondo tempo di questa partita la squadra mi ha soddisfatto però ecco oggi una partita che tu la ingabbi bene la prepari bene loro la sbagliano diciamo francamente hanno avuto delle confusioni devi chiuderla con più cattiveria nel finale senza portiere non abbiamo tirato un paio di volte però vabbè vediamo domani cosa succederà noi cercheremo di impostare ritmo e loro cercheranno di addormentarci col portiere in momento di tutta la partita ancora sport perché continua sprombattuto la campagna di rafforzamento della megabox Vallefoglia dopo la promozione in serie A1 e continua nel segno delle mix fra esperienza e gioventù appartiene a questa seconda categoria la centrale Alexandra Botezat nata in Romania ma di nazionalità italiana classe 1998 di 1 metro e 96 la Botezat viene da 4 campionati di serie A1 divisi fra Busto Arsizio Conegliano e Brescia e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo però qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che comincia alle 21 e 15 raccontandovi la storia dei fratelli Simoncelli che realizzano mezzi elettrici per nonni moderni appuntamento alle 21 e 15 a seguire alle 21 e 30 non perdetevi lo speciale che abbiamo realizzato all'hotel Excelsior di Pesaro dove il Rotary Club di Pesaro ha tenuto una conviviale dedicata al cantiere navale Rossini svelando appunto questo luogo alla città appuntamento dunque alle 21 e 30 l'informazione invece su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con la nostra segna stampa del mattino Buongiorno Rossini per l'occasione sarà condotta lo vedete in grafica da Antonio Astuti e per chi di voi ancora non l'avesse fatto vi ricordiamo di scaricare l'app di Rossini TV uno strumento pratico semplice e molto comodo per avere sempre a portata di click la possibilità di vedere i nostri programmi di consultare le nostre notizie o semplicemente per inviarci segnalazioni ed è davvero tutto per questa edizione da parte mia il più cordiale saluto l'augurio di un buon weekend e una buona continuazione di serata con i nostri programmi grazie a tutti grazie a tutti